Io dico di ricostruire il quartiere del fast food più grande e più bello anche mai! Per i soldi ci vorrà un'emissione di titoli! Ma così non passerà anche il portello ai vostri figli? No, Cuccellona, noi lo paghiamo con un'altra emissione di titoli, poi sarà di sua figlia a doverlo pagare!